Come mai ci sono pali dell'illuminazione pubblica su strade private? La domanda, espressa qualche giorno fa dall'associazione L'Altra Sciacca, è diventata oggi oggetto di un'interrogazione presentata dal consigliere comunale Simone Di Paola. Diversi i casi e gli esempi sollevati, ma sicuramente ne esisteranno anche degli altri. L'illuminazione pubblica è presente su strade interdette al traffico veicolare, come in via Corrao, sita in Contrada Foggia, in fondo alla via Emilio Ravasio, in vicolo Spiaggia, ossia quel vicolo che unisce via Mulini con via Gaia di Garaffe, e in via Lido. La questione è chiara. Perché strade private vengono servite da illuminazione pubblica pagata da tutti i contribuenti saccensi? E come è possibile considerare strade private, arterie che invece sono state denominate proprio dall'ufficio toponomastica del comune di Sciacca? Una analoga interrogazione era stata presentata già nel 2011 dall'allora consigliere Francesco Fiorino. L'assessore al ramo del tempo, Fabio Leonte, aveva assicurato che era stata data a disposizione al comune di staccare l'allacciamento e che tale servizio, trattandosi di strade private, era a totale carico dei proprietari. Da allora ad oggi nulla è stato fatto, anzi i punti luminosi sono stati persino ammodernati con la nuova tecnologia a LED, come da contratto stipulato con la Gemmo. L'altra Sciacca e il consigliere Di Paola si rivolgono quindi all'attuale assessore ai servizi a rete, Gaetano Cognata, per sapere come mai non è stato dato seguito alla disposizione trasmessa a suo tempo dall'assessore Leonte. Se risulta all'amministrazione comunale in carica l'esistenza di questi presunti abusi in numerose strade o spazi privati della città, come e in che tempi l'amministrazione comunale e i responsabili degli uffici competenti, ove si accertassero tali abusi, intendono procedere alla soppressione degli impianti della pubblica illuminazione presenti nelle aree private, con indebito vantaggio per pochi cittadini a dispregio della comunità intera. Infine si chiede se l'amministrazione non ritengo opportuno dare mandato all'ufficio competente di monitorare ed accertare con la dovuta attenzione ed intransigenza tutti i possibili casi di illuminazione pubblica di aree private e di procedere al relativo distacco dalla rete pubblica, ottenendo in tal modo un risparmio economico ed eliminando assurdi privilegi e disparità tra i cittadini.